Maurizio Costanzo è morto venerdì 24 febbraio 2023, a Roma, il grande giornalista e conduttore TV aveva 84 anni. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk show Bontalloro. Il nome di Maurizio Costanzo è inevitabilmente legato al Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona Domenica. Ha scritto inoltre numerosi libri. Le cause della morte di Maurizio Costanzo non sono state ancora svelate. Da tempo, però, il giornalista soffriva di diabete. Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte, l'ultima con Maria De Filippi. Il loro matrimonio andava avanti dal 1995 e insieme hanno adottato un figlio, Gabriele, che oggi lavora con la conduttrice Mediaset. Uomini e donne, non andrà in onda. Mediaset ha comunicato che il programma condotto da Maria De Filippi salterà nel pomeriggio. È di queste ore la sconvolgente notizia sulla morte di Maurizio Costanzo. Maria per rispetto e per affrontare questo grave lutto ha deciso di non andare in onda con il suo programma, sebbene la puntata fosse stata registrata qualche tempo fa.